io non devo più mettere piede dentro un supermercato perché sono pericoloso mancavano già cancellata la lista ma mancavano tre cose tre di numero sono tornato con una busta piena fino all'orlo anzi ci ho fatto entrare io tutto perché in condizioni normali una busta non sarebbe bastata di conseguenza non lo so legatemi tenetemi fermo da qualche parte mandate qualcun altro a fa spesa al posto mio io do il budget e deve tornare solo con quello che mi serve sì perché ho comprato un sacco di roba a fine consumerò però il consumismo e cose che si attivano ben tornati e ben ritrovati allora sto facendo questo contenuto col nuovo ring light perché quell'altro non so se mi seguite sul primo canale fatemi un attimo un goia che mi sarà accumulata saliva lo sapete e per il momento ragazzi non è che mi convince tanto mi sembra che fa meno luce di quell'altro non lo so me lo potete confermare voi da casa non credo perché me ne rendo conto io dell'intensità ho messo al massimo dice questo c'ha dieci intensità quell'altro ce n'aveva tre era più potente di quest'anno vabbè una marea di mi piace su questo video per supportare gli sua dalla spesa è gratis fatemi capire che questa serie deve continuare iscrivetevi e attivate la campanella anche su questo canale regà il 65 forse anche quasi 70 non mi ricordo 65 68 per cento di voi su questo canale segue i contenuti ma non è iscritto ma che ve costa lasciamme l'iscrizione mi fa ad arrivare a 100 mila iscritti che vi portano speciale di quelli clamorosi insieme al buon fabbio c'ho pure due canali youtube dove parlo di calcio se vi interessa lascia i canali in descrizione o compariranno qui durante il video se vi interessa il calcio se no che che vi frega allora questo è lo scontrino sono andato all'eurospin oggi dice la spesa intelligente pubblicità ingannevole perché la spesa intelligente non si fa da sola se ci fa un deficiente come me a fare la spesa non può fare una spesa intelligente fa una spesa deficiente quindi per favore adesso io voglio che bisogna denunciare l'eurospin perché mi trae in inganno ecco detto questo vabbè poi voglio dire quanto ho speso cominciamo vi faccio vedere quello che mi serviva veramente quindi ve lo ve lo dico man mano che lo tiro fuori e non pensate a male queste sono cose che mancavano e mi servivano e ho fatto scorta non so si già ve l'ho fatta vedere sono buonissime ragazzi ma se volete ci faccio un video assaggio in cui faccio finta che non l'ho mai assaggiate però secondo me ma possiamo fare un video assaggio in cui assaggio un bel po di cose avete fatto una bella idea no ma sono fatta venire da solo no scrivete hashtag lo voglio faccio un video assaggio in cui magari contenuto dopo contenuto assaggiamo più di qualcosa allora queste sono buonissime mini gallette mais e legumi senza glutine non fritte fonte di fibre e proteine l'unica cosa ho notato che sono un po' caloriche vediamo se mi ricordo bene e si ragazzi per 100 grammi 442 chilocalorie sto pacco sono 80 grammi cioè te mangi un pacco di questo sono 500 e passa calorie per quanto sono vegan e cavoli vari però capite bene insomma eh vabbè e però sono buone le spizzico le stuzzico non so fritte e questa e le cubi poi poi non c'hanno manco tanto sale però sanno di sale ma non so sale sale un grammo ma sembra che so pieni di sale buonissime vabbè due ho detto queste di notte io me le sparo poi tre non mi ricordo quanto costa una pacco ma ve lo dico aspetta eh 99 centesimi fattibilissimo sicuramente meglio di un pacchetto di patatine 4 sto a sbriciola tutto 5 ok la foto di copertina e va bene poi no questo manco mi serviva in realtà vabbè tiro fuori cose che non che non avevo prima questa come ho fatto vedere sì sono andato apposta per quello poi queste non servivano prese così tanto per io senza banana non so stare onestamente ogni tanto una ma la magno eh però il resto ecco quindi ho preso quattro belle banane due molto più lunghe due molto più corte io andrò su quelle ovviamente più lunghe quanto costano queste cose vabbè i banali se le fanno pagare giustamente ragazzi miei non c'è scritto vabbè non ce ne frega niente ok non servivano e le ho prese passo davanti alla cassa anzi faccio vedere verso la fine va c'è proprio gente che compra roba a casa così giusto per sperdere allora questi non servivano ah no questi servivano no scusate questi servivano questi i banali servivano non c'avevo più eh questi sono di siracusa e avevo preso un altro tipo che non sembra strano ma non c'era scritta la provenienza dico perché mi devo comprare una cosa non c'è scritta la provenienza qua c'è scritto siracusa come minimo saranno de de grotta ferrata però va bene lo stesso e li ho presi sembrano all'odore e al colore sembrano de siracusa fidamose di quello che hanno scritto mancano questi ragazzi miei natisana una cosa una spruzzata su un po' de pollo alla piastra sapete che il limone fa sempre comodo no anche poi quando uno c'ha la cagarella eh aiuta ad attappare no ficcato bene dentro e girato n'esce più niente poi questa non serviva ma l'ho ripresa in realtà ce l'ho ancora un frigorifero un'altra marca è questa dell'eurospin però vabbè un pezzetto di treccia gigante ma questa è una scureggetta la parte proprio iniziale o finale fate voi no la parte centrale è quella più è questo ok e 2 euro e 33 questa sulla piastra una bottarella ragazzi miei con due fette de spec a morte sua poi questo non mi serviva però l'ho visto ho detto ma sai che c'è sempre buono in una pasta spalmato su due crostini una stronzata una cosa in altra è uno snack che poi c'ha una scadenza abbastanza lunga quindi conservanti portatemi via 28 marzo 2023 sto video probabilmente uscirà aprile quindi crederete che 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 mo son magnato scaduto che era scaduto ma va sicuro che insomma c'ha una bella una bella scadenza vabbè vo dico oggi è 13 febbraio 13 febbraio sto video uscirà probabilmente non lo so tra mesi e va bene poi questa non serviva però l'ho ripresa ce ne sta ancora un pacco però ho detto senti facciamo scorta io prendo sempre quella affumicata la pancetta affumicata premium a cubetti molto molto buona carbonara amatriciana si io ci metto un po dipende amatriciana una volta faccio con una cosa una volta faccio con la faccio con speck io invento le ricette quello che ci sta ci metto va bene non mi ricordo manco che ce va dentro amatriciana se speck se la pancetta se no speck sicuro no la pancetta che c'è vabbè speck stick questi ragazzi anche questi per una ricetta de pasta de cose è tutto buono insomma se mette in mezzo mi sono scordato i piselli mi sono ricordato le banane mi sono scordato i piselli mannaggia la miseria per farla la pasta funghi piselli panna e pancetta proprio mi sono scordato che vedevo di dovrò riannare solo per quello così spendo un altri 500 mila euro queste sono tutte cose fino a mo cosa che era nato per comprare solo questi e poi detto beviamolo un pezzetto di pane per stasera ce l'ho surgelato in realtà poi quando è caccio una schiacciatina una rosetta e a scaldico vabbè ma ce sto la prendo fresca stasera ma magno fresca un po d'affettato sempre così faccio sto frigorifero è peggio non so se vi ricordate quel film dei fantozzi che la moglie si era innamorata di diego abba d'antuono cecco il nipote del fornaio sotto casa casa piena di pane ecco io sto io però non sono innamorato del panettiere e sto sempre a comprare pane praticamente viva il consumismo poi questo era nato per comprarlo e ovviamente io non sarei gabbo se non andassi per esagerare perché vai per comprarne uno ma pigliane almeno due prendili anche le marche diverse per provare le faccio vedere prima questo che è quello che prendo solitamente che è quello più economico sperando che sia salmone perché io non ci credo a sto prezzo vabbè comunque 150 grammi il colore diciamo che vabbè comunque è in vendita è norvegese affumicato il nostro salmone è allevato nelle fredde acque allevato nelle fredde acque ma sono tutti di allevamento ormai nelle fredde acque norvegesi lavorato fresco e mai congelato viene affumicato a freddo con legni di faggio vabbè fonte di acidi grassi omega 3 questo che fa una bella pasta pennette al salmone ok questo costa 3 e 99 sono 150 grammi dice ammazza vai in alto supermercato vai arconad 50 grammi costano 26 euro dice che c'è sta che non va onestamente parlando sperando che sia salmone e che non sia gatto e non sto roba di laboratorio vabbè non ironia ironia portami via non pensate a quello a quello che dico detto questo salmone islandese anche questo è una variante costa un po di più questo 389 se non mi ricordo male ma so 100 grammi questo mi sembra un po più color salmone questo mi sembra un po più vivo un po più dice no è meglio quello perché quello non c'è coloranti questo hanno colorato per farlo sembrare salmone tutto può essere perché tanto qua come fa dice compi una cosa che costa di più è capa di c'è costa di più e qualità è capace che stanno va bene ok poi e il salmone mi serviva quindi le due cose che mi servivano e tre con i limoni quindi questo dovevano a prendere nient'altro allora poi sono passato davanti al congelatore congelatore e cose ho detto un contorno grigliato fa sempre al caso perché una sera che uno c'ha fretta ok pia butta in padella due botte e finisce la storia passando sempre per i banchi frighi mi sono ricordato congelatore mi sono ricordato che avevo finito i funghi porcini del solito i biancona da un milione d'euro qua 2 euro e 99 che perché sta differenza non lo so perché sta differenza comunque l'ho presi due so porcini se non è che mi sono sbagliato porcini porcini ok perfetto e per la pasta io molto molto spesso poi quando viene fabbio capirai pasta e funghi porcini lui proprio è lo stile di vita questo un po mai manca a casa mia per condire la pasta mazza che tosto ma che è vabbè poi allora questi mi sono lasciato in golosì in realtà ho preso prima questo e poi ho detto ma manca quello sotto c'è il latticino manca quello sotto l'ho trovato e l'ho presi crostini dorati c'erano quelli anche integrali ho detto ma me che mi frega dalla dieta e quando faccio dietro le cose e mangio le cose quelle più laide e corrotte quindi ho preso i crostini ma questi pure con veramente un po a modde panzanella no con un po di pomodorello non ho preso il pomodorello sopra tagliato col basilico e cose va bene poi quasi finito mi è venuta voglia dei piatine i piatine si possono fare tutti i modi ci può spalmare la banana le cose i latticini le nonne so quelle un po più piccole ce ne stanno quattro dentro il prezzo è competitivo onestamente la consistenza mi sembra quella buona ho detto prendiamole ogni tanto pure dubbiatine non è che fanno schifo a cena o come spuntino che io non farò mai perché mi faccio i spuntini musso al salmone da mettere la pasta al salmone insieme al salmone con un po di panna mischio tutto quanto e faccio le pennette al salmone ovviamente manca la materia prima e mezze penne ovviamente a base di insetti farina di insetti ho il coraggio di guardare perché tanto sotto i tuoi non manco ben capito tanto ma se stanno a meraviglia che se mangiamo l'insetti nella vita e se mangiamo l'insetti mo perché è uscito lo scandalo lasciamo perdere ho prese magno non me frega niente tanti insetti so buoni ne so proteine mezze penne mezze penne passate gragnano il gp ok questo 1 euro e 0,9 mi ricordo un pene il prezzo va bene pure l'eurospin mo ha trovato la scusa per fare le pasta che costano 10 euro una volta con 3 centesimi all'eurospin ci piavi 25 kg di pasta questo ve lo faccio detto a poco allora varianti di yogurt costano te meno di quelli del conad che te veramente te ti venne a rene per comprare yogurt ho preso ricco di proteine che è questo vaniglia ho guardato ovviamente la tabella è nutrizionale e i zuccheri so pochi no so tanti no zuccheri 4 grammi non so tantissimi alto valore proteico e basso contenuto calorico 100 grammi 75 kg calorie secondo me insomma non è male e vaniglia ho preso la variante spero questa ancora devo capire che cos'è risolatte vaniglia risolatte vaniglia senza zuccheri aggiunti contiene normalmente zuccheri se sono curioso di assaggiarli e poi quello mio preferito sicuramente ci vado matto al cacao e non pensate a male ok quando cacao è una cosa che te magna non è una cosa che fa il bagno ok abbiamo quasi finito due buvate buvate so quelle vabbè so pugliesi e burrate no mo vendono pure qua una volta non sapevano manco che era noi c'ho un mizia che è pugliese quindi conosco da una vita e la pesciacca di mamma e la pesciacca delle zie delle zie e niente dentro vabbè c'è la stracciatella dentro la burrata sembrerebbe una mozzarella ma mozzarella non è poi ho preso il nodino che so i classici come nodini come chiamate voi sono quelli piccoli no e trecce quelle hanno fatti annotini piccoletti annotati mozzarella annotata sempre buona lunga abbastanza scadenza metti là e poi guarda le bufatine poi affumicate questo è il mio prodotto preferito per eccellenza l'eurospin ragazzi sono messe tipo dentro nel coso quelli della ricottina è una burrata però è affumicata quindi bisogna adesso affumicata se ne è finta di chimica affumicata che sta da affumicato ma ne è affumicata e dentro c'è sta la stracciatella pure qua però è più compatta più tosta più affumicata poi e poi voglio assaggiare queste questo è il video assaggio ce lo voglio fare io poi queste cose quando vado a correre solitamente mangio fagioli mangio queste cose un po così no fonti le fibre e no nezzi e dico ma perché non prendere visto che io prendo sempre quelle di marca e insalatissime di omare costano 97 euro l'una perché non provare queste a 2,49 2,90 2,49 mi pare ho preso la messicana le messicane questa c'ha mais fagioli e peperoni deve essere proprio buona ok e poi ho provato anche la variante mediterranea fagioli carote e olive pronta da gustare piglia e metti in bocca ok sì perfetto ok no c'ho avuto un attimo de vuoto perché avevo letto da qualche parte che c'è stava la forchetta la forchetta c'è sta scritto con forchetta vabbè e ne ho prese altre due una e una a due per non farmi mancare nulla video assaggio se volete ve lo faccio e poi sto passato davanti alla cassa stavo sempre cara a freddore dove la ragazzina ci stanno disce in faccia ci fanno i tosse raffreddore e cose ok ho detto senti prendiamo qualcosa c'è scritto zero zuccheri senza zucchero senza glutine come minimo guardate la bella nutrizionale i zuccheri naturalmente contenuti sono 975 milioni no zero grammi stranamente fibre c'è sapore un po' di sale un po' di carboidrati e te pareva 100 grammi 234 chilocalorie vabbè questi ho 68 grammi posso mangiare tutti allora poche calorie sto scherzando ovviamente ogni tanto per mal de cola l'eucalipto capito stappa fa chiappe cose e via dicendo quanto hai speso dovevo andare per spendere raga limoni cose dovevo spendere 10 euro ecco ho speso 63 euro e 66 benissimo la spesa intelligente il problema è che voi ripeto è che chi va a fare la spesa che non è intelligente quindi nessuno grazie per la visione alla prossima con un nuovo svolta la spesa ne vado che è meglio ciao raga